Buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video dunque oggi sono qui per ricreare con voi tre ricette virali che ho visto su tiktok ma no no non lo faremo come al solito quindi non dovremo ricreare ricette vegane di cucinare fare no 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 perché le ricette di oggi sono decisamente strane non richiedono del cucinamento ma richiedono però un bel po di coraggio infatti queste ricette sono andate virali soprattutto in tiktok america e poi in realtà hanno spopolato in tutto il mondo e quando le ho viste anche se da un lato ero un po inorridita soprattutto per due cose in particolare dall'altro lato ero tipo ok si facciamolo voglio provarlo devo provarlo non posso vivere senza provare queste cose quindi preparatevi infondetemi il vostro coraggio e iniziamo andiamo subito a vedere la prima ricetta e mentre guarderemo il video ve lo spiegherò io ve lo commenterò perché non posso mettere l'audio altrimenti youtube mi bannerebbe perché sono canzoni con il copyright quindi la prima ricetta che andremo a fare è la healthy coke ovvero una versione salutare della coca cola questa ragazza infatti dice che ha provato questa cosa e vi giura vi giura anzi ci giura che rimarremo incantati da questa ricetta infatti lei mette all'interno di un bicchiere del ghiaccio dell'aceto balsamico e dice poi di utilizzare una qualsiasi bibita frizzante con un qualche sapore quindi può essere tipo una sprite o quello che vi pare il gusto che vi pare e basta semplicemente berla e avere la vostra healthy coke e lei dice ve lo giuro ve lo giuro cioè rimarrete wow stupiti sa proprio di coca cola wow è tutta contenta se la beve ora io ovviamente dubito fortemente che una bevanda fatta di aceto balsamico possa anche solo lontanamente ricordare la coca cola e dubito anche fortemente che sia una cosa bevibile ma noi non possiamo giudicare senza provare e quindi armiamoci di tutto lo corrente necessario e prepariamo la nostra healthy coke iniziamo mettendo del ghiaccio ne metto quattro cubetti anche perché ci sono meno 18 gradi e già per me bere una cosa col ghiaccio in inverno è tipo impossibile quindi quattro cubetti poi andiamo a mettere il nostro aceto balsamico non specificano bene le quantità quindi io non so bene come regolarmi ma mi sento di non voler esagerare troppo tipo così sarà abbastanza ancora un pochino dai ok basta 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 per carità già ha un odore orribile e come bevanda sparkling da aggiungere ho scelto una sprite quindi che ha un gusto comunque abbastanza neutro con un sottofondo un po' limonino che ci sta e soprattutto perché poi ci servirà anche per un'altra ricetta quindi apriamo e versiamo voilà ho veramente paura di tutto ciò dunque come colore potremmo anche esserci vagamente vicino vagamente un pochino più sbiaditina una coca cola annacquata praticamente a livello di odore diciamo che la sprite sta andando a coprire bene il nostro aceto balsamico si sente ancora un pochino ma giusto in sottofondo non dà fastidio quindi forse stiamo giudicando male qualcosa che ci stupirà ci cambierà la vita d'ora in poi berremo solo questo c'è solo un modo per scoprirlo andiamo ad assaggiare ho paurissima ok possiamo farcela 3 2 1 ok no è la cosa più terribile mi vengo a piangere vi giuro mi stanno lacrimando gli occhi è terribile terribile è la cosa più obrobriosa che io abbia mai bevuto in vita mia e io non sono una coi gusti difficili io mi berrei anche l'acqua delle pozzanghere quindi cioè oh mio dio no non so con quale coraggio quella tizia del video se la beva ogni giorno tutta tranquillissima perché è qualcosa di veramente osceno no 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 o ci stava trollando o non saprei come altro spiegare questa cosa è terribile chi tra l'altro mentre guardavo la ricetta dicevo ma questa cosa non ha senso cioè lei vuole fare una healthy coke quindi una coca cola salutare sana e però ci mette all'interno una bibita gassata dolce cioè quindi che senso ha ok non stai usando direttamente la coca cola ma stai comunque usando un'altra tipologia di bibita gasata e dolce non ha senso non è salutare questa cosa sto forse sbagliando vabbè comunque rimane veramente una cosa terribile voto meno 6 non voglio vederla mai più nella vita per carità ma passiamo ora alla seconda ricetta che devo dire che invece questa è quella che mi ispira di più quando l'ho vista ho detto no vabbè questa sì in realtà forse potrebbe avere un lato un po disgustosino ma lo scopriremo poi però per il resto mi sembra una cosa già più sensata ecco come potete vedere la ricetta consiste nel mettere delle caramelle gommose in un bicchiere metterci dell'acqua bollente farle sciogliere far poi rapprendere questo composto e aggiungere un latte che preferite poi distruggere tutto con una cannuccia per fare questi pezzettini e bere il tutto come se fosse un bubble tea un bubble milk in realtà in questo caso e qui e qui devo fare un attimo una premessa quando ho visto questa ricetta ripeto ho detto no vabbè questa mi ispira un botto però mi sono posta subito un quesito perché ho detto ok le caramelle gommose non sono generalmente vegane perché hanno la gelatina animale all'interno però esistono delle caramelle gommose ma riuscirò comunque a farle sciogliere e poi a far rapprendere il tutto come se stessi usando delle caramelle gommose con la gelatina animale perché avendo magari composti all'interno diversi magari la ricetta fallisce quindi ho deciso di portarmi avanti e fare già questo procedimento prima di fare il video ieri sera anche perché tanto avrei dovuto aspettare ore prima che il composto si rapprendesse vi dico che come caramelle ho utilizzato queste qui quindi sono delle coca coline gommosine che sono anche molto molto simili a livello di consistenza di sapore a quelle non vegane le ho messe all'interno di questa tazza ho messo un po' di acqua bollente e devo dire che effettivamente all'inizio non si scioglieva e io ero tipo disperata tipo no perché dannazione la mia ricetta prefe non funzionerà però poi ho pensato e se provassi a mettere il tutto un attimo in microonde raga sono bastati pochissimi secondi in microonde e il tutto come potete notare si è sciolto poi ho fatto raffreddare a temperatura ambiente e spostato poi in frigorifero per tutta la notte ed ecco qui guardate ha funzionato si è super gelificato quindi vi posso confermare che funziona anche con le caramelle vegane non ci fermeranno potremo fare questa ricetta e infatti andiamo ad aggiungere l'ultimo ingrediente mancante e vediamo se questa ricetta ci stupirà oppure no come avete visto la ricetta diceva di aggiungere un latte qualsiasi io ovviamente andrò ad utilizzare un latte vegetale più nel dettaglio andrò ad utilizzare un latte di riso una bevanda vegetale di riso che è bella dolcina tranquilla con un sapore non troppo invadente fastidioso e secondo me potrebbe essere molto adatto ho visto alcuni che lo facevano anche con dello yogurt al posto del latte quegli yogurt proprio super liquidi yogurt da bere però non sapevo dove trovarne uno vegano e quindi ho optato per il latte andiamo a metterlo all'interno voilà e guardate già che carino che c'è lo stratino bello solido non trapassa nulla ma ora andiamo a distruggere il tutto con la cannuccia andiamo a fare esattamente come faceva nel video e dovremmo andare a creare proprio dei pezzettini tipo di gelatina una cosa del genere ma ve lo giro che si vede meglio da questa parte oh eccoci qua si funziona ora che abbiamo spaccato il tutto vedete che ci sono proprio dei pezzettini come se fosse un bubble milk sì l'aspetto magari non è super invitante anche per i colori che ci sono io confido nel fatto che sia buono secondo me ci stupirà questo sono pronta sono carica ovviamente ho preso la mia cannuccia da bubble tea altrimenti pezzettini di gelatina li chiamiamo così non salirebbero mai e vediamo com'è questa seconda ricetta virale di tiktok no aspettate perché i pezzi non stanno salendo dalla cannuccia sono troppo grossi ci riprovo oddio è stranissimo oddio è buonissimo ho un misto di sensazioni strane no allora a livello di gusto è pazzesco raga è stra buono ho fatto benissimo a scegliere il latte di riso perché ripeto non è invadente ma dolcino e si sposa bene con le caramelle alla coca cola che ho scelto però devo dire che a livello di consistenza è a little bit inquietante ecco perché senti questa gelatina che però ha un non so che di strano un po' troppo viscidino però se si va oltre a quello il sapore è pazzesco raga questo veramente voto 9 stavo per dire 10 ma no perché effettivamente la consistenza è un po' strana ma ci si può abituare però a livello di sapore raga è pazzesco è troppo buono dai è così se lo proverete fatemi sapere cosa ne pensate in realtà se proverete qualsiasi di queste ricette che farò oggi fatemi sapere cosa ne pensate anche della healthy coke se ve la sentite di farlo io ve lo sconsiglio ok lo metto via me lo finisco dopo però vi giuro me lo finirei perché è troppo buono e arriviamo all'ultima ricetta e vi dico preparatevi perché finora non avete visto niente niente quello che sta per accadere ora è qualcosa che va oltre al terribile al demoniaco se secondo me proprio non dovrebbe esistere però aspettiamo a giudicare andiamo a vedere la ricetta l'ultima ricetta che proveremo oggi anche perché probabilmente dopo questa cosa non avrò il coraggio di bere nient'altro nella mia vita sarà una ricetta breve ma intensa e già dall'inizio capirete perché ho così paura andiamo a vederla questa persona decide di mettere del ketchup sì ve lo giuro in un bicchiere con del ghiaccio della Sprite e della Red Bull fine non so che dire signori non so che dire innanzitutto perché la loro Sprite è così verde non penso faccia molto bene al corpo questa cosa ma lasciamo stare ma soprattutto perché unire del ketchup con della Sprite e della Red Bull siamo noi che non capiamo niente siamo noi che ancora dobbiamo aprire gli occhi e allargare i nostri orizzonti culinari scopriamolo andiamo a preparare questa delizia meraviglia incredibile andiamo sto anche sacrificando un gran bel bicchiere per fare questa cosa ok prima che me ne penta facciamolo andiamo a mettere il ketchup ingrediente fondamentale wow che meraviglia direi che così basta lui metteva poi un solo cubetto di ghiaccio ma il mio bicchiere è più grosso del suo quindi ne metto due aggiungiamo poi la nostra Sprite ve l'avevo detto che ci sarebbe riservita oh che carino si è fatto lo strattino che schifo e ultimo ingrediente la nostra Red Bull e voilà la nostra super delizia è pronta ahimè cannuccina messa e direi che ora dobbiamo mescolare oh mio dio non sta avendo un bell'aspetto ma il ketchup rimane tipo grumosetto no raga che schifo oh vi prego questa cosa veramente fa troppo schifo io non so se riuscite a percepire ma il fondo rimane tutto un po' grumosino no vabbè raga perché sto facendo questa cosa andiamo prima con l'olfatto vi dirò l'olfatto non è male però anche con la coca cola healthy dicevamo così quindi non mi illudo andiamo ad assaggiare raga ora oh mai più ora oh mai più scusatemi scusatemi non ho parole sono seria sono serissima questa cosa è buona ve lo giuro non so come sia possibile quello che io temevo di più in assoluto è buono raga ma è proprio buono e tra l'altro non mi sono neanche contenuta troppo con il ketchup avete visto che ne ho messo un bel po' cioè però ha senso è buono è una cosa che berrei più di una volta nella mia vita oddio sono sconvolta sono seriamente sconvolta forse ho anche avuto un po' di culo che sono riuscita ad usare bene gli ingredienti non lo so non lo so però effettivamente non posso dire che non sia buono ma tipo voto 8 non sto scherzando la red bull e il ketchup si sposano da dio e la sprite è un po' legante che rimane comunque abbastanza tranquillina senza essere invadente ci sta raga è buono non c'è un sapore che prevale sull'altro e allo stesso tempo si riconoscono tutti i tre sapori distintamente cioè io sono sconvolta bartender di tutto il mondo inserite questo cocktail nel vostro bar nel vostro locale ci sta un sacco secondo posto nella classifica al primo c'è quello con le caramelle gommose e all'ultimo ma in realtà io non lo farei neanche entrare in classifica quella maledetta cosa chiamata coca cola sana che veramente all'inferno ragazzi all'inferno quindi bon raga con questi tre esperimenti di oggi presi da quel dannato tiktok che mi fa sempre fare cose discutibili facciamo la conclusione di questo video vi aspettavate che questa cosa sarebbe andata così io onestamente no sono veramente sconvolta e soprattutto voi provereste a bere queste cose fatemelo sapere nei commenti e giunti a questo punto del video direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto e l'hashtag della fine potrebbe essere ce l'ho raga hashtag sorprendente assolutamente sì perché sono sorpresa piacevolmente sorpresa quindi scegliamo questo come hashtag hashtag sorprendente scrivetelo qui sotto nei commenti se avete visto qualche altro tiktok con qualche ricetta non per forza di cose da bere oggi mi sono concentrata su queste per cambiare un po' ma anche su cose da mangiare da quello che vi pare mandatemeli su instagram fatemeli avere in qualche modo che magari prendo spunto e ci facciamo un altro video se il format vi piace ovviamente io in descrizione vi lascerò tutti i link di tutti i miei social così se vi va potete seguirmi anche lì vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao